Allora, partendo dai suoi inizi o quasi, i quadri specchianti che sono ben rappresentati qui nascono da una interessante dinamica. Molti artisti hanno usato gli specchi nel contesto dell'autoritratto, ma in definitiva lei ha deciso che ciò che voleva scoprire nello specchio non era tanto se stesso, ma piuttosto è il mondo che la circonda. Dopo decenni di questi lavori affascinanti si è ritrovato con un vero e proprio museo del tempo. Pensava che questo aspetto della sua opera potesse diventare un progetto a lunga scadenza, nonostante il fatto che poi abbia creato molti altri tipi di opere. Al principio pensavo che sarebbe stato sufficiente qualche quadro specchiante, poi mi sono reso conto che non c'era solo la mia persona, ma c'erano le persone intorno a me che potevo fissare come immagini e poi c'erano gli oggetti e poi c'erano le situazioni che si creavano intorno a me. Allora ho capito che potevo raccontare la storia della mia vita attraverso dei fotogrammi che sarebbero diventati memoria all'interno del movimento continuo del presente che è nello specchio. Quindi c'è la memoria e il presente che convivono. E quindi diventa diciamo il documento della mia vita, ma non un documento sul lavoro, un documento così del presente banale, il banale presente dello svolgersi delle cose. E successivamente però si è staccato da questo suo marchio, producendo gli oggetti in meno, una collezione molto eclettica di oggetti che lei ha definito una mostra collettiva di un solo artista, di cui qui anche ci sono vari esemplari. Dopo sono stati definiti il punto di partenza dell'arte povera, ma doveva essere un cambiamento piuttosto rischioso, ha esitato a lasciare almeno per un po' una produzione così innovativa e di successo. Ha anche detto che considerava questi oggetti una liberazione da qualcosa. Io ho continuato a fare i quadri specchianti, non ho mai smesso, ma non ho solo fatto quello. Non è diventato il mio marchio unico ed esclusivo, è diventata la documentazione della mia vita e quindi non è un label, è una storia. Però è chiaro che il mondo aveva preso quest'opera come un label, come un marchio, facendone poi un qualcosa di rappresentativo di un sistema che è quello commerciale. Non ho niente contro la parte commerciale delle cose, ma non voglio che la mia arte sia conclusa nel commercio. E allora ho pensato che l'unico modo per interrompere questo concetto di uniformità di stile era quello di fare di me tantissimi stili e ogni opera è diventato uno stile a sé. Quindi ho completamente distrutto il concetto dello stile personale, come se fossero tanti artisti in me stesso. La differenza è diventato il tema di fondo di questo lavoro. La differenza è non l'omogeneità. E poi si va in là, così, e si vede che lo stesso mucchio cambia di colore e tutto diventa bianco, vede? Vede che non c'è più il colore e tutto diventato lo stesso mucchio diventato bianco. Quindi è un, potremmo dire, che questa è una metamorfosi. La metamorfosi dal bianco al colore e viceversa. Metamorfosi mantenendo la stessa forma. Per me è importante l'idea della metamorfosi, perché secondo me noi siamo in un periodo di metamorfosi della società. Gli uni poi si risfettano negli altri. Anche qui dà l'idea della continuità, dell'idea che lo specchio è sempre uno solo. Di specchi ce n'è uno solo, che è tutto frammentato nei vari momenti, nei vari luoghi. Un quadro fatto ancora col pennello, ed è l'unico quadro, no, sono due, dove uno è pennello e lamiera. Ma non c'è mai il pennello in nessun lavoro. Quando ho visto Bacon ho capito che era interessante riprendere la figura nella sua naturale dimensione, con la differenza che per me bisognava portare questa figura fuori dal dramma, perché Bacon riprendeva la figura ma la immergeva nel dramma dell'esistenza, il tempo dell'esistenzialismo, che c'era anche nell'astratto espressionismo. Ecco, io volevo uscire dall'angoscia, uscire dal dolore e trovare veramente un modo per entrare in uno spirito nuovo della convivenza e anche di me stesso, per sentirmi meglio. E quindi è solo attraverso il quadro specchiante che questa figura è uscita dal suo isolamento e dal suo dramma ed è entrata nella società. Che poi lo vediamo. Qui ci sono molti passaggi. Vedi che i primi erano bianco e nero e poi man mano viene fuori il colore e non solo più la figura statica, ma la figura anche in movimento. Sono dei movimenti fissati, perché sono delle immagini che fissano il presente e perdurano. E quindi questo movimento di questa persona rimane come se avessimo fermato il tempo. Però il tempo continua ad andare avanti e c'è il tempo fermo. Infatti è come un museo del tempo. Un museo del tempo, bravo. Perché questi lavori sono veramente l'espressione diretta del tempo. Non sono io che racconto il tempo, ma è il tempo che si manifesta per se stesso. Che si è raccontato, certo. E questo è l'ultimo lavoro. Per me è nuovo, sì. Questi barattoli. Questi barattoli che sono i barattoli che vengono usati per fare le serigrafie. Quindi a me piacciono molto perché voglio fare una serie di scaffali con tutte le cose conservate negli scaffali. Un'evidenza della realtà data anche dalle possibilità tecnologiche che sono date oggi dalla tecnologia moderna. Dalla possibilità di realizzare i colori in maniera così diversa da quella che era la vecchia serigrafia. E prima di parlare di qualche opera specificamente in relazione al contesto di Blenheim, che in qualche modo è una retrospettiva, ma forse il termine è riduttivo in questo caso. Mi chiedevo se c'è qualche richiamo simbolico vis-à-vis il luogo natio di Churchill, dato che lei ha anche vissuto gli anni di guerra in Italia. Io penso che forse proprio il simbolo del terzo paradiso è quello che porta l'idea di pace in un luogo che è stato anche nato per la guerra, nato come potere per cui la guerra è necessaria. Per me questo simbolo è il potere per cui la pace è necessaria. Qui in questo luogo c'è una valenza forte di questo perché per me Churchill durante la guerra significava la speranza, la liberazione, non tanto gli americani, non tanto i francesi, non tanto i partigiani, ma quanto un nome che continuamente sentivamo in Radio Londra quando aspettavamo di uscire da questa tragedia della guerra, era questo nome che veniva continuamente ripetuto Churchill, Churchill e quindi impersonificava questa speranza. Il fatto di ritrovarmi qui fuori dalla guerra proponendo pace mi sembra quasi un colloquio con quella persona per un nuovo fronte che non è più quello di guerra. E per quanto riguarda lo spazio qui che è proprio l'antitesi del cubo bianco. Sono curiosa di sapere qualcosa della disposizione di alcune opere. Per esempio è interessante vedere la venere degli stracci nella cappella. In passato lei ha messo delle opere specchianti in alcuni spazi religiosi, per esempio l'arte assume la religione, ma l'intervento qui con la venere è un altro commentario sul rapporto fra arte e religione. Non è un commentario diretto, ma è chiaro che anche nella religione c'è un'icona che attraversa la religione, c'è sempre un'icona per quello che è la nostra concezione di religione in senso figurativo. Un'icona che però precede l'icona religiosa ed è l'icona greca, l'icona romana e quindi è una storia quasi di una divinità non religiosa, una divinità laica che l'arte porta con sé dal passato fino al presente per poi rigenerare quella che è la situazione attuale in cui tutta la società dei consumi finisce poi per diventare garbage. Ci sono delle opere che credo siano nuove, per esempio dei ritratti credo settecenteschi sui quali ha aggiunto uno strato di mica e questi dialogano in qualche modo con Blenheim, col quale forse uno associa questo tipo di pittura, ma anche fanno venire in mente anche la sua prima attività a fianco di suo padre che restaurava dipinti antichi. Io ho pensato al restauro dei quadri antichi con l'amica, cioè restaurarli con il moderno e quindi questo è un materiale brillante che piace, che soddisfa, dà gioia e qui ci sono molti ritratti antichi portando questi ritratti invece in parte coperti di mica, restaurati con l'amica, è come se io intervenissi su tutti i ritratti che sono qui dentro. Quindi c'è un intervento diretto per cui la gente non sa se io sono intervenuto su qualcosa che era già qui oppure no, però c'è questa connessione per cui avrei potuto mettere l'amica ovunque. Ha fatto tantissime versioni del suo continuo progetto del Terzo Paradiso in molte forme diverse, per esempio sabbia, pane, luce, persone e anche in alcuni luoghi straordinari come i panni di Caracalla e la piramide del Louvre. Come ha reagito nello specifico a Blenheim rispetto ad altri contesti? Qui è stato ripetuto un Terzo Paradiso che era già stato a Louvre e è stato portato qui perché è uno dei lavori che ho fatto io con il Terzo Paradiso, ma il Terzo Paradiso poi viene rienterpretato da centinaia e migliaia di persone. Sono nate le ambasciate del Terzo Paradiso che sono in tutto il mondo, che chiedono appunto alla gente di, attraverso le ambasciate, di intervenire, di agire nella trasformazione del cambiamento, di assumere una responsabilità del cambiamento e quindi questo lavoro qui è mio, ma il Terzo Paradiso viene poi rifatto e rifatto in mille maniere, con mille materie, con mille regioni e mille ragioni. Qui ci sono anche varie opere di scultura sia dentro che fuori, ci sono dei classici come l'Etrusco che qui mette in scena lo slogan accarezzare gli alberi. Credo che di solito piazza questo lavoro davanti ad uno specchio e c'è anche un nuovo lavoro impressionante, Miraggio, disposto nella fontana della Water Terrace. Ci può dire qualcosa di questi lavori nuovi e ripensati e come si è relazionato agli esterni con lo sfondo di Capability Brown? Per me è molto importante considerare l'ecologia come una visione di responsabilità per il futuro. La sostenibilità è la base di tutto il progetto e quindi l'Etrusco che accarezza gli alberi vuol dire che la scienza, la tecnologia, il bronzo nasce proprio per fare le sculture ma nasce anche per fare i cannoni. E quindi che la tecnologia si metta ad accarezzare gli alberi vuole dire il Terzo Paradiso, vuol dire la connessione tra artificio e natura, questo è quello che viene proposto in altra figurazione attraverso gli etruschi che accarezzano gli alberi, la stessa proposizione del simbolo del Terzo Paradiso. Per quanto riguarda la vettura dentro alla fontana, questo è stato un mirage, nel senso che visitando il luogo ho visto la fontana e mi è apparsa questa vettura dentro all'acqua, così come poi l'ho realizzato. Quindi è stata un'idea di un miraggio, cioè di qualcosa che non esisteva ma che io ho visto. E così poi adesso tutti lo vedono ma è stato un mio mirage. Lei ha detto di non leggere molto, che è interessante, benché parte della sua attività consiste nello scrivere e teorizzare sull'arte. Questa sembra un'altra delle contraddizioni con la quale lei si confronta. Quando ha cominciato a ragionare sull'arte moderna, credeva che dovesse creare le proprie idee piuttosto che reagire a quelle già esistenti? Quando ho cominciato a lavorare ho pensato che dovevo sia reagire all'esistente che proporre la mia visione, tutte e due le cose. Anzi, senza reagire all'esistente non avrei trovato la mia posizione. È per questo che cercando le mie identità ho trovato anche l'esistente, ciò che esiste intorno a me, nello specchio. E lei, cioè ne parlava poco anzi, lei proponeva concetti di riciclaggio e sostenibilità decenni prima che diventassero de rigueur, appunto. La venere degli stracci è nata dai panni che lei usava per lucidare i quadri specchianti, come pure sono stati usati nelle performance della sua collettiva ZOO. Ma ritiene che questo aspetto dell'arte povera sia più necessario che mai? Io penso che sia necessario l'arte povera oggi come base, come punto di partenza, non soltanto come punto d'arrivo, come lo è per molti artisti dell'arte povera. Per me è un punto di partenza ed è per questo che ho creato la città dell'arte. La città dell'arte è il luogo dove gli artisti vengono e non solo gli artisti, ma le persone di tutte le professioni vengono per fare un'esperienza di arte connessa con la società. E quindi se nell'arte povera c'era una visione, una posizione di tipo politico e sociale, quella viene poi fuori con questa nuova attività che prosegue con la città dell'arte, con il terzo paradiso e con tutte le azioni e le interazioni con il sociale. Infatti uno degli aforismi che lei ha cognato è l'artista e sponsor del pensiero e lei ha una missione esplicitamente sociale nella sua arte, anche nella sua fondazione appunto Città dell'arte. è ottimista per quel che riguarda la possibilità dell'arte di permeare e unire diversi aspetti dell'esistenza. Io sono ottimista nella possibilità dell'arte di fare questo, cioè di interagire con il sociale per cambiare le cose, utilizzare la società per creare una grande opera d'arte di cui tutti siamo coautori. Non è più soltanto un'autorialità artistica mia, ma una coautorialità di tutti, quella che io cerco. Io penso che fin dove si arriva funziona, possiamo essere ottimisti. Se poi le avversità oppure le prospettive che non dipendono dall'arte, ma dipendono da altri fattori, portano altrove, questo non lo posso dire. Grazie. 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 Grazie.